Giovani tra i 16 e i 24 anni che si trovano in condizione di disagio sociale, in particolare NIT, ovvero non occupati oppure non in percorsi di istruzione, e giovani a rischio devianza e che adesso avranno di chi a occuparsi, grazie ad un progetto dell'Unione Italiana Sport per Tutti, che abbraccerà idealmente la città di Palermo, operando soprattutto allo Zen e nei mandamenti del centro storico. È un progetto dell'UISP nazionale, che è stato finanziato dal Ministero delle Politiche Sociali, prevede il coinvolgimento di 11 città italiane. A Palermo è stata scelta dall'UISP nazionale come un esempio positivo, ma sicuramente anche tangibile, di un percorso di crescita in luoghi aperti. Il progetto coinvolge diverse realtà del territorio, come ad esempio il laboratorio Zen Insieme, che da sempre si occupa di promuovere la cultura dello sport e dell'integrazione sociale. In un anno che secondo me segnerà una crescita per questo quartiere, per lo Zen 2, su tanti fronti, anche sul fronte sportivo segniamo un elemento di crescita, e quindi noi investiamo su una nuova disciplina, meno popolare, meno conosciuta come il basket, per provare ad utilizzare sempre lo sport nello stesso modo, come prezioso strumento educativo, ma anche come strumento di riqualificazione del quartiere. È importante fare uno sport gratuito, noi operiamo nell'ambito del contrasto alla povertà educativa, quindi per noi tutti gli strumenti gratuiti che possiamo e che riusciamo a mettere a disposizione dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze del quartiere, sono importanti proprio perché appunto si consente a questi ragazzi di fare cose che altrimenti sarebbero particolarmente gravose per le proprie famiglie.